Io mi sono unito agli altri consiglieri nel appoggiare subito con entusiasmo questa iniziativa chiarendo prima alcuni aspetti preliminari, ma quello è un altro discorso, perché crediamo che il DWRI per potersi sviluppare ulteriormente rispetto alle iniziative lodevole che ci sono già adesso debba aprirsi a un progetto di grande respiro e Science Gallery lo è sicuramente, anzi un respiro molto ampio non solo per la realtà locale ma per tutto il territorio veneziano, quindi credo che possa rappresentare per l'istretto della ricerca appunto un momento di sviluppo importante che possa fare quel passo in più per farlo crescere e farlo diventare realtà. Noi rispetto a molte altre realtà del distretto veneziano della ricerca e innovazione siamo un istituto di ricerca proprio per il conoscimento del ministero, quindi svolgiamo attività scientifica di ricerca, quindi crediamo di poterne ricavare molti vantaggi nel senso che può diventare per i nostri ricercatori che già fanno questa attività un momento di scambio importante con ricercatori di altre realtà europee. Già oggi abbiamo collaborazioni strette con università canadesi, inglesi, belghe, abbiamo ricercatori tutti giovani, quindi credo che Science Gallery si inserisca perfettamente in quello che è la nostra mission e la nostra attività di tutti. Per quanto riguarda il DWRI credo che diventando uno dei soci fondatori di Science Gallery ne possa diventare uno dei protagonisti e come ho detto in precedenza possa in questo modo acquisire una visibilità maggiore nel territorio. Per quanto riguarda la mia struttura credo anche in questo caso possa dare un contributo importante alle iniziative che faranno parte di Science Gallery e a nostra volta diventare uno dei centri di riferimento che possono più appoggiare questa nascente realtà nel territorio nazionale. Grazie. Grazie.